Non riesco, manca chi ha d'aiuto. Perché io sto qua? Io non posso uscire da qua. Stanno i matti, vero? Io qua non c'eri ma... Però dove sono di più strana? Wow! Qua se mi piace sto fatta con se hai questo irregolo di teo sistema. Ma è tutta la mattina che ti sto chiamando? Il problema è che noi siamo troppo buoni. No, no, non devi fare così però. Noi possiamo provare a chiudere un contratto l'anno. Dai Gabri, qualche blitz qualche volta che l'abbiamo fatto, dai. Ci devi essere, ok? Ok, oh. Se non lo so se stai di fatto, poi io riprendo di avanti. Che differenza ha fatto? Sei felice? Tantissimo, Pia. Comunque 4.000 euro per i gioielli? Chi l'avrebbe detto? E vedi che noi ci teniamo a gioielli del matrimonio. Che ti credi? E a mezza via non è facile, credi a me. Lo so. Però sei l'unico modo per stare con te nel modo migliore. Ma come fai a dire sempre le cose giuste? Ma come fai a dire sempre le cose giuste? Ma come fai a dire sempre le cose giuste?